Domenica 10 marzo il lago Trasimeno aprirà le porte alla classica manifestazione che dà l'inizio alla primavera podistica in Italia. La Strasimeno ultramaratona nel parco del Trasimeno, nei borghi più belli d'Italia e nei paesaggi dipinti dal Perugino e dal Signorelli, con le sue 5 distanze intorno al lago. È una sicuramente delle gare più belle e panoramiche in Italia e dal 2002, grazie alla perfetta organizzazione dell'ASD Filippide di Castiglione del Lago, la competizione è andata sempre crescendo, diventando un appuntamento irrinunciabile per tutti coloro che vogliono confrontarsi nelle varie distanze del podismo e accogliendo atleti da tutta Italia e da vari parti d'Europa. La 10 chilometri con arrivo a Borghetto di Tuoro è la distanza ideale per i neofiti della corsa o per chi vuole correre più velocemente. Poi la classica mezza maratona che arriva sullo splendido lungo lago di Passignano sul Trasimeno, la 34 chilometri poi che ha il suo epilogo a San Feliciano e che viene spesso utilizzata come ultimo o penultimo lunghissimo da coloro che sono in preparazione per le grandi maratoni primaverili. Ed infine la 58 chilometri che dopo aver percorso l'intero periplo del lago Trasimeno vedrà la sua conclusione nel suggestivo lungo lago di Castiglione del Lago. Entro il 21 di gennaio il costo per l'iscrizione a questa dodicesima edizione della Strasimeno è più basso, 10 euro per la 10 chilometri, 25 per la mezza maratona, 30 per la 34 e 40 per la maratona e 45 euro per l'ultra maratona. Anche nel 2024 come lo scorso anno ci saranno quindi le camminate Strasimeno che vengono proposte con a distanze inferiori e con arrivo a Borghetto di Tuoro, a Passignano sul Trasimeno e a Sant'Arcangelo, oltre alla camminata di 6,5 chilometri a Castiglione del Lago con promozione riservata alle scuole del paese. Termine per l'iscrizione il 5 marzo. Termine per l'iscrizione il 5 marzo.